Benvenuto a Business in Pillole, pochi minuti quotidiani dedicati alla crescita del tuo business. Io sono Ilaria Cella, fondatrice di Consulting That Really Works, una boutique di consulenza strategica aziendale dove aiutiamo le organizzazioni ad aumentare fatturato e profitti in modo più semplice, rapido ed esponenziale, così che le persone che lavorano hanno più possibilità di dedicare il proprio tempo libero alle attività che veramente amano fare. E oggi vorrei parlare di una cosa dove forse anche tu hai provato anche per un solo minuto pensare non ho mercato, sono troppo caro. Un'amica mi diceva questo e io purtroppo non capisco questa affermazione perché ho una bella notizia, ho la notizia da dirti che la Ferrari ha una lista d'attesa mentre la Fiat non ce l'ha. Quindi c'è mercato anche per chi è troppo caro, per il lusso e andiamo a vedere cosa vuol dire, cosa può voler dire il significato di questa non ho mercato. Il primo se è un'affermazione allora ti dico cambialo perché non ha senso che tu rimanga in un mercato se non c'è il mercato. Però un suggerimento controlla che effettivamente sia vero, che non sia frutto di un tuo blocco. Secondo è che questo sia un dubbio che ti poni e allora ti chiedo di riformulare la domanda per potenziarti, per darti una possibilità e vai a chiedere dov'è il mio mercato, dove posso andare e in questo caso fai riferimento a dov'è la concorrenza, dove si posiziona, con chi parla. E la terza cosa è se lo dici e io penso che sia questa la situazione perché a me capitò una volta se lo dici perché i risultati erano inferiori a quelle che erano le tue aspettative originarie. Beh, in questo caso ho due suggerimenti. Il primo vai a vedere quello che fa la concorrenza e l'esercizio di oggi sarà scrivere su quello che è il tuo quaderno, appunto cosa fa la concorrenza, concorrenza che ha i risultati che tu vuoi avere che tu ancora non fai. E ho detto non ancora, cosicché potrai valutare se quelle azioni possono essere fatte realmente anche da te. E la seconda cosa che è ancora più importante della prima è andare da quelli che sono i tuoi clienti e intervistarli. Sì, devi chiedergli perché sono clienti, perché sono venuti da te, perché questo perché è quello che sarà il focus della tua nuova comunicazione e sarà il tuo focus dove tu devi lavorare. Perché quello che stiamo cercando di fare è tracciare un profilo di un cliente ideale. Perché se ne hai uno vuol dire che ce ne sono tanti che sono uguali a quello che hanno bisogno della stessa cosa. E la seconda domanda che andrai a fare al tuo cliente, mi raccomando prendi nota di quelle che sono le risposte, è se c'è qualche cosa che vorrebbero, di cui avrebbero bisogno che tu stesso puoi fornire. Cosicché avrai l'idea per un nuovo prodotto o comunque per l'ottimizzazione di un prodotto già esistente che ti porterà a più clienti, perché sarà effettivamente completo come i clienti lo vogliono. Ricordati una cosa, che comunque devi intervistare più di un cliente, perché comunque devi verificare poi che quelle risposte siano le risposte di tutti e che non sia una risposta solamente di una persona. E qui ti voglio anche dire una cosa. La Barilla andava sempre a testare quelle che erano i prodotti con i consumatori già esistenti. L'ha sempre fatto. Perché? Perché i consumatori, i nostri clienti sono quelli a cui noi ci rivolgiamo, per cui noi dobbiamo fare le cose per loro. Ecco, allora questa dovrebbe essere il nuovo atteggiamento a quando ti frulla nella testa l'idea non ho mercato. Mi raccomando l'azione di oggi è andare a scrivere quelle che sono le azioni che anche tu puoi fare per avere, per avere più mercato. E allora ti do appuntamento a domani per una nuova business in pillola. Buona crescita a tutti!